Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è l'estrazione del contest di GTA Online che avevo lanciato la settimana scorsa questo è il video contest in cui hanno partecipato un po' di persone e mettevo in pallio due account, uno per PS4 e uno per PS3 ragazzi quindi ricordatevelo, l'avevo detto anche nel video andrò ad estrarre in questo ordine, prima l'account di PS4 e poi l'account di PS3 quindi andiamo ad incollare il link ragazzi andiamo a prendere random comment picker e ci inseriamo il link guardate l'orario ragazzi, non ho potuto farlo in live perché ho formattato il PC e ho perso un po' di cosine ho dovuto ripristinare tutto quindi ho perso OBS e non mi andava di stare lì a reinserire la string key mi è successo molto recentemente insomma sta cosa e quindi ho preferito farlo in video a questo punto andiamo ad incollare carichiamo tutti quanti i commenti e siamo pronti ragazzi guardate bene l'ora quindi schiacciamo il primo ragazzi allora qui abbiamo il primo che sarà quello dell'account PS4 Zio Palermo Youtube andiamo a vedere il canale di Zio Palermo Youtube allora qui apparentemente dice che non mostra un cazzo il canale io voglio sperare per Zio Palermo anche perché è uno che mi segue da parecchio tempo è una persona che sta sul canale infatti qui ci sono le iscrizioni vediamo se c'è l'iscrizione quanta brutta gente Zio Palermo mamma mia no scherzo scherzo sei libero di seguire chi ti pare e niente ok ho visto l'iscrizione è in basso ragazzi allora a questo punto cerchiamo il video vediamo il video questi sono i video che hai caricato te Zio e vediamo un attimino se ci sono nelle playlist se c'è un video si ok c'è la playlist dei video piaciuti quindi andiamo a vedere madonna quanto è brutto sto modo di mettere le playlist qui quindi andiamo a vedere andiamo a vedere non te sarai mica scordato di mettere mi piace a questo video qui al video del contest vediamo vediamo scendiamo ancora più in basso mi sa che te sei scordato Zio no si? si te sei scordato no te sei scordato eccolo qua eccolo qua ragazzi Zio Palermo non si è scordato quindi Zio Palermo mi contatti su Telegram per l'account PS4 e ora andremo a estrarre l'account PS3 allora Zio grazie per tutti i like che mi lasci e spero che continuerai così insomma detto questo passiamo al prossimo al prossimo allora qui abbiamo Patrick mi sembra è Patrick vediamo se c'è l'iscrizione Patrick scendiamo 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 ah Patrick ma l'iscrizione? ah aspetta mi sa che l'ho vista mi sa che l'ho vista aspetta aspetta eccola lì maledetto scroll di merda vabbè tra lo scroll e la pagina comunque l'ho vista l'iscrizione e adesso vediamo ragazzi il bello del scusate ma non voglio rispondere al telefono momentaneamente lo mettiamo muto e vediamo un attimino i diciamo i i like di di Patrick vediamo 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 se c'è il video il video c'è ragazzi c'è anche il video a Patrick quindi sia Zio Palermo che Patrick mi contattino su Telegram per i corrispettivi account ricordo Zio Palermo ha vinto l'account di PS4 e Patrick ha vinto un account per PS3 ragazzi che altro dire lancerò presto un nuovo contest mi raccomando rimanete presenti sul canale aiutatemi a crescere aiutatemi ad arrivare a questi 10.000 iscritti detto questo un saluto a tutti al prossimo video a hurtingo a a a a a a a a e a a a a Grazie per la visione!